Radio Radicale con Marco Grimaldi di Sinistra Italiana Verdi per capire che cos'è successo nelle ultime ore da quando l'Italia ha raggiunto l'accordo sul patto di stabilità a questo voto in aula sul MES preceduto dalla seduta della Commissione stamattina. Allora, che cos'è successo nelle ultime ore e che cosa provocherà questo stop per sei mesi alla ratifica del MES? Ma forse per chi ci ascolta bisogna farla per fotogrammi, facciamo delle immagini. Vediamo una Presidente del Consiglio molto agitata, siamo in aula e lei rimprovera ai governi precedenti di essersi fatti tanti selfie e non aver portato a casa nulla. Fotogramma. Arriviamo a un altro fotogramma, la vediamo dentro un bar con la Francia e la Germania, con Macron, con Scholz, che discute e si apprende dai giornali che sta trattando fino in fondo per la revisione del patto di stabilità. A proposito di selfie e immagini che ha fatto circolare ad arte. Oggi di fatto che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto in realtà la reazione a un'altra due foto. La prima è quella di due giorni fa. In realtà la Germania e la Francia si vedono il giorno prima e dicono tutto a posto, il patto di stabilità c'è già, c'è, è nuovo, sta per arrivare. La Meloni prova a prendere ancora un po' di tempo e dice no, non è detto. Ieri si sono bevuti quel patto. E secondo me si sono bevuti un patto di stabilità che, ahimè, mette al centro di nuovo alcuni paradigmi, come quello per esempio dell'indibitamento, sì, ma per far cosa? Per armarsi fino ai denti. Mentre non è riuscito questo nuovo patto di stabilità a mettere fuori, per esempio, gli investimenti nel sociale, nella sanità, ma soprattutto nella transizione ecologica. C'è quello che in teoria questo paese avrebbe dovuto chiedere. Allora, la verità che cosa è successo? È successo che la Meloni si è trovata in difficoltà, ha dovuto ratificare quel nuovo patto di stabilità, ha raccontato per mesi che non avrebbe approvato il MES finché non ci sarebbe stato, appunto, il peso dell'Italia sul patto di stabilità. Allora, delle due, l'una. Ho quel patto di stabilità siglato ieri, di fatto un patto di stabilità che non piace all'Italia, perché oggi la maggioranza che cosa dice? A questo punto noi votiamo contro la ratifica del MES, utilizzando delle scuse. Delle scuse perché oggi in Commissione di Bilancio cosa è successo? Anche lì è un tema un po' complicato, ma il parere della Commissione di Bilancio non era nel merito della compatibilità finanziaria del MES, cioè non era una richiesta al MEF sui, come si può dire, sugli oneri diretti o indiretti sulla finanza pubblica. Diceva, ah, questo è un meccanismo che non tutela le Camere, dal punto di vista della partecipazione. Mi viene anche da dire, se volete mettere i meccanismi partecipativi della Camera, fate voi un disegno di legge. Questo era, come sapete, un disegno di legge di due forze dell'opposizione, cioè il PD e azione. Quindi, che cosa è successo? È successo che si è votato contro, con un parere contrario della Commissione di Bilancio, utilizzando questo come pretesto per poi bocciare l'articolo 1 di questi due provvedimenti. Ma quello che voglio dire agli spettatori che ci ascolta è molto semplice. Il MES, secondo voi, verrà non ratificato da questo Governo? Secondo me lo ratificheranno. Semplicemente oggi hanno voluto coprire gli errori di ieri e tutta la retorica degli scorsi mesi. E quindi dobbiamo prendere con le molle il voto di oggi che ci dice che in nessuno dei due schieramenti ci sono i voti per ratificare il MES. Lo rivedremo tra sei mesi, questo? Io credo che lo vedremo molto presto, ma oggi lo vedremo molto presto sulla scena, ma io credo che si sottovaluti un fatto. Intanto vediamo com'è questo patto di stabilità, vorrei leggerlo, perché non vorrei che il combinato disposto di non aver ottenuto quello che potevamo ottenere ieri e questa vicenda del MES portino in realtà in una crisi istituzionale e anche finanziaria questo Paese. Ecco, questo non lo auspica nessuno. Dico anche, e lo sapete, noi eravamo fortemente critici sulle condizionalità sospese, perché in qualche modo non vorremmo che ritornassero in campo. Come sapete noi siamo contro le privatizzazioni, siamo contro l'idea che qualcuno ci imponga delle riforme strutturali, mentre noi vogliamo un MES comunitario e non intergovernativo. Ecco, questi scenari continueranno a esserci e vedremo nei prossimi mesi come se l'aggaverà. E scusi, è una domanda che credo non le piaccia, ma pensa che i mercati come prenderanno questa schizofrenia del voto a favore del patto di stabilità e poi il no successivo al MES? Io spero, diciamo, che le condizioni in questo Paese vadano oltre la sceneggiata che abbiamo visto in Parlamento. sono preoccupato per l'economia italiana e per una possibile recessione, ma non per questo, perché continuiamo a non capire che senza vere politiche industriali rischiamo di andare a sbattere. La verità è che senza i fondi del PNRR, di cui nessuno parla, saremmo già in recessione. Quindi quello di cui dobbiamo stare molto attenti è come utilizziamo, se questi soldi serviranno a fare le stesse politiche che rischiamano di farci andare a sbattere. E la terza cosa, ancora più importante, che ruolo avremo noi qui? Si gioca a fare i patrioti, ma i patrioti si fanno anche decidendo dove si produce l'acciaio, dove si produrrà l'auto elettrica del futuro. La pagna si farà a Pomigliano o in Serbia? Ecco, ai patrioti di oggi, diciamo, noi siamo pronti a sfidarvi sul Made in Italy e sugli interessi nazionali. Voi non siete pronti a un bel nulla. Grazie Marco Grimaldi e Sinistra Italiana Verdi